il tra forte questa città affidata noi non dobbiamo mobilizzare vittimizzare i nostri clienti che vogliono in taxi di questo andare mediamente a taxi e prendere i nostri clienti che hanno bisogno di taxi lasciare il punto che desiderano non ancora se ne è stato nato in garage e c'è la tua attraverso il gioco ah dopo un po' di gioco, ah compro l'occasione di soldi 100 no compiamo questa va il gioco putt mi viene non abbiamo bisogno di farlo Dio secondo me, non ha bisogno di farlo non si può non si può ah no, non si può cosa succede a casa ah no, non si può cosa è successo da qua non si può cosa è successo da qua gioco butto ah no gioco butto 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 questo qua ah c'era ah c'era là eh non quello da tirare niente c'è il muro ah ah vai ha detto mi lasci un po' che ciao fanco si non ti avevo letto ah alla prossima grazie per la compagnia come faccio andare in alto ah c'è il punto il gioco butto iscrivito mi fai la macchina oh il messaggero è stato quello riportare in mente il messaggero è distruzione si ma la camera è andata dove l'ha stata? perca miseria si ma la camera è andata non è che fai questo gioco non è che fai non è che fai non è che fai Ehi, il dottor Vagli è pronto, se guarda su di qua, non pena sto marco. Sono incastato. Andiamo. Andiamo a trovare il ponte. Andiamo a fare il salto. Facciamo il salto. Vediamo. Va. Ua! Andiamo all'acqua. Si è lotto tutto. Meno principale. Niente, sono molto. Basta, cambiamo il gioco 3. No, finiamo così, basta così. Grazie. Grazie.